All'interno dell'indirizzo sociosanitario, lo studente potrà specializzarsi nel ramo odontotecnico. Chi frequenta questo corso potrà acquisire competenze per sviluppare apparecchi di protesi dentaria. Al termine del percorso di studi, dalla durata di 5 anni, il diplomato è abilitato alla professione di odontotecnico e, interagendo con lo specialista odontoiatra, potrà realizzare, rifinire e levigare tutti i tipi di protesi, provvisoria, fissa e mobile. Lo studente sarà in grado di eseguire tutte le lavorazioni del gesso per sviluppare le impronte e collocare i relativi modelli su dispositivi di registrazione occlusale. Lo studente, terminato il piano di studio, potrà anche accedere a tutte le facoltà universitarie, con particolare riferimento a odontoiatra, medicina e area sanitaria. Ho scelto l'indirizzo odontotecnico perché penso che mi dia l'adeguata professionalità nel mondo del lavoro.